Venerdì 14 ottobre si riunisce il terzo tavolo organizzato dall'Alleanza per la città, un tavolo che verte sulla qualità della vita. Attorno a questo argomento ruotano numerosi temi. Si discute infatti di rifiuti, del Centro Storico, del Verde, PRG e ancora mobilità ed energie alternative. L'incontro è avvenuto nella sede del PD Centro Storico, mentre nelle scorse settimane l'Alleanza per la città ha affrontato diverse questioni nel corso di altri due tavoli nella sede del Polo Civico. Il primo tavolo è stato incentrato sulla formazione e dunque ad esempio università, mentre il tavolo 2 riguardava lo sviluppo economico e quindi le filiere agroalimentari, ricerca di finanziamenti o ancora artigianato di qualità. Gli argomenti sono molteplici, tant'è che si provvederà a suddividere il tavolo in sottogruppi per rendere più snella le elaborazioni. I temi sono quelli più di stretta cogenza, quali il piano regolatore, il verde pubblico, i rifiuti e il centro storico. Questi verranno trattati in diverse riunioni e serviranno per elaborare delle proposte immediatamente da portare all'amministrazione. Quindi il ruolo dei tavoli tecnici non è altro che un ruolo di supporto all'amministrazione comunale. Oggi è la prima riunione e speriamo di accelerare anche il ritmo, visto che è passato anche il periodo estivo, in maniera tale da arrivare a delle proposte concrete di immediata fattibilità, per cui si provvederà ad un'organizzazione logistica dei vari gruppi, in maniera tale da poter procedere in maniera snella ad arrivare a elaborazioni già concrete e proponibili. Grazie a tutti.